Noi usiamo questa valigia per le trasferte di gara, è una valigia molto comoda perché è pratica per inserire la nostra bici ed è comoda per i viaggi in aereo, ma la gente ogni volta che si vede in aeroporto si chiede sempre, ci guardano un po' come per dire ma cosa sarà mai, una volta ci capita che ci fermano e ci chiedono e normalmente rispondiamo appunto che c'è la bici, ogni tanto si cerca di scherzare con qualcosa di strano ma normalmente rispondiamo che c'è la bici. H6 Drive Fast